Ragazze, ciao, benvenuti in un nuovo video. In questo video vi faccio vedere cosa ho ricevuto da Shane. Come sapete, Shane è il mio sito online preferito, ottima qualità prezzo, roba veramente buonissima. Ogni volta che giro nei negozi penso, ma sicuramente su Shane c'è a meno prezzo, quindi subito. Appunto vado a spulciare sul sito e ho sempre i carretti super pieni. Comunque, banda alle cianci, vi faccio vedere cosa ho preso in questa tranche. Ho preso questa qui, questa magliettina con la manica così, questa con le rose e lo scollo quadrato. Questa qua, color senape, camicetta manica palloncino. E poi questa qui con il colletto appunto pezzato, che io stra-adoro, così. E sempre con la gruccetta vi faccio vedere un po' sorpreso, velocissimamente perché ho poco tempo. Quindi questa qui, a pizzo sangallo. Di tutto ho preso una 0XL e una XL. Poi questa qui, bellissima, con il colore del momento, che è il lilla. Le luci sembrano un po' spalsate perché è sera. Comunque questa qui, questa splendida canottina. Poi un vestitino, questo qui per tutti i giorni, per caso, oppure anche per il mare. È giallo. Poi questo qui. La rosa, vestito, sempre vestito. Con le maniche a sbuffo e il collo, così. E questo qui viene con la splendida cintura. È fatta strap, strap bene. Guardate le rifiniture. Questo è un vestito di 10 euro, quindi ce n'è un po'. Questo. Questo qui è meraviglioso. Pizzo sangallo. Giallo senape. Un altro color. Trend dell'estate. Questo, non ho sbagliato, ho preso una XL, devo prendere una 0X. Guardate che bellino. Alla manica, così. Così. Ed è appunto, così, stretto in vita. Poi. Adesso passiamo alle bluse e camicie. Camicia particolarissima che si può trovare solo da Zara, a pezzi sorbitanti, mi vedo la scena costa nulla. Questa qui, con lo scollo, che è anche dietro. Maniche a sbuffo. Pizzo sangallo, oggi sono ultra rapido. Pizzo sangallo, sempre blusetta. Maniche a palloncino, lavoro bellissimo. Alla fine me ne mancano due, ho preso tanta roba, ho pagato buonissimo. Questa qui, bianca, con il tulle, meraviglioso. E lo scolletto così. E per ultima, questa è l'amicia. L'adoro, l'adoro. Per l'amidunno. Andrico all'inverno, mettendola sotto qualcosa, con questo collo. Sapete che io adoro questi colli. Un pezzo di manica con il tulle, come la magliettina. Manica corta. E poi la manica è a palloncino. Eccola qua. Poi ho preso alcuni accessori. Questa mini bag. Color lilla. Con la travolina. Questo pacchetto di Teddy. Questo paio di arricchini spettacolari. Pagati solo 2 euro. Queste pinze io adoro le mollette per capelli. Io le uso sempre. Queste. E alla fine un pacco di questi qua, con gli strassi che mi ricordano quelli di Stati Valso, che ho pagato 10 euro. Due. Mentre questi sono 3, 5. Le ho pagato solo 3 euro. Non comment. 3 euro. E poi ho preso questi. Che erano un set da 2. Quest'altro è un altro set da 2. E questo è un set da 4 con tutti. Vi faccio vedere una. E questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se anche voi avete ordinato da Shane. Scusate la velocità, ma devo stringere la mia figlia. Giustamente vuole il suo tempo. Quindi ciao. E al prossimo video. Buono shopping ragazzi. Andate da Shane. Andate, andate, andate. E comprate.